È vero che ha intenzione di ritirarsi, signora Grandi? È possibile. Non l'ho ancora deciso. Lo devo chiedere al mio futuro marito. Lui non vuole che io faccia altri film. Il suo futuro marito? Sì. Perventetemi di presentarvelo. Si chiama Carlo. Ci sposeremo la prossima settimana. Guarda Gianna. Ecco un altro servizio su Maria Grandi. Senti. Maria Grandi. Le ultime notizie. Nel suo albergo parigino, la signora Grandi ha detto ai cronisti che probabilmente si ritirerà. Ha detto che non riesce ancora a decidere. Ha detto che deve chiedere al suo futuro marito. Ha detto che il suo futuro marito non le permetterà di fare film. Poi ci ha presentato Carlo. E ci ha annunciato che si sposeranno la prossima settimana. È una notizia sensazionale, vero Katia? Certo. Lui sarà il suo sesto marito. Grazie. Grazie. Grazie.